I tifosi del Sondro Calcio non si sono resi alla sparizione della loro squadra e sono passati a trovarci in redazione per parlare delle loro iniziative e denunciare il silenzio calato sul futuro del club non più iscritto ai campionati in corso. Torniamo ad occuparci di Sondro e di Sondro Calcio, una legazione di tifosi che è venuta oggi a trovarci e tante anche le iniziative legate a questa squadra che purtroppo quest'anno non vedremo al via dei vari campionati. Innanzitutto parliamo del concorso dedicato alle vetrine. Tante vetrine a Sondro hanno addobbato la loro vetrina con i colori del Sondro Calcio. Com'è andata? La classifica e anche la risposta? È andata bene, è stata la seconda iniziativa perché all'inizio avevamo fatto quella per addobbare terrazzi e balconi di bianco-azzurro che purtroppo il successo è stato abbastanza scarno. Mentre quella delle vetrine è andata veramente molto bene e sarebbe potuta andare meglio però noi purtroppo il primo anno che per forza di cose dobbiamo fare queste cose invece che organizzare trasferte e tifo alla Castellina, ci tocca organizzare queste manifestazioni. È andata molto bene perché hanno partecipato in tanti, in tantissime, e tanti altri se avevamo forse più materiale avrebbero partecipato. Anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i commercianti che hanno partecipato e per scusarci con quelli che... Ricordiamo che la classifica finale. La classifica finale recita al primo posto il Lux Center Parrucchieri, al secondo posto Bata Calzature di Corso Italia che sottolineo anche che ci hanno aiutato tantissimo anche sui social perché hanno postato, scritto... Dato che la cosa ricorda, anzi prima finisco e ringrazio Sportside anche che arriva classificato al terzo posto e la manifestazione è nata dietro anche al Ricominciamo Sondrio insieme che avevano fatto i commercianti dopo il lockdown, quando abbiamo riaperto, ci siamo un po' riallacciati a questa situazione, infatti i nostri volantini manifestavano aiutateci a ricominciare. Quindi è andata veramente molto molto bene. Ecco, abbiamo apprezzato per il vostro impegno, per queste iniziative, però certo che dei tifosi di calcio vorrebbero dedicarsi alla cosa più importante, ovvero sia la loro squadra di calcio. Invece il campionato è iniziato, il Sondrio come ormai ben sappiamo non c'è più e preoccupa, vi preoccupa, anche un po' questo silenzio che sembra essere calato. Esatto, purtroppo è calato un silenzio totale, noi è tutta l'estate che sentiamo solo silenzio perché la gestione precedente non parlava, la gestione non ci diceva niente, noi sempre a pensare, a credere, e a crederci fino alla fine che si potesse salvare ancora il salvabile, poi invece sappiamo tutti com'è finita. Adesso quantomeno vorremmo avere un pochettino di chiarezza se c'è chi è da questa nuova proprietà, se è stata già fondata, che programmi hanno o anche solo dall'amministrazione comunale che ci dica qualcosa perché qualcosa ci hanno già detto, però alla fine ormai sono cominciati i campionati ai noi e noi a fare le vetrine. Le tre domande dei tifosi al sindaco Scaramellini. Domanda numero uno, il Sondrio Calcio si poteva salvare? Domanda numero due, che futuro avrà il calcio a Sondrio, unico capoluogo di provincia senza una squadra? Domanda numero tre, si lavora per dare un presente al settore giovanile? Bene, ma la prima squadra in futuro si chiamerà ancora Sondrio Calcio 1932 o tutti questi anni di storia andranno persi?